Benvenuti a meteo giulianci.it. Oggi sabato 9 giugno, nubi al centro nord, con rovesce temporali su molte regioni del nord per l'arrivo di una perturbazione dalla Francia. Caldo però al sud sulle isole Abruzzo, Maurizio e Lazio, dove sarà invece presente l'anticiclone nordafricano. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete le nuvole che ricoprono soprattutto il nord, ma in parte anche il centro. Che tempo allora farà oggi? Bene, molti simboli di sereno su gran parte del centro sud, a parte qualche nuvola qua e là, un po' di nuvole anche sulla Sardegna, molte nuvole al nord, eccetto l'Emilia, la Romagna e la Liguria. Rovesce temporali, questa è la situazione del mattino, sulla Lombardia, Trentino, Alto Adige e Venezia. Vediamo la situazione prevista al pomeriggio, rischiara sulle regioni di nord-ovest, poche nuvole sulle regioni centrali, sereno al sud, molte nuvole sulle regioni di nord-est, eccetto l'Emilia, Romagna, rovesce temporali su Dolomiti, Venezia, est della Lombardia. Qualche rovescio anche nelle zone interne del centro. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno intorno 24-27 gradi su quasi tutto il nord Italia, 28-30 su Emilia, centro sud e isola e maggiore, con punte però di 33-34 gradi su Puglia, Molise e Basilicata. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno. Mi sono tardi.